Dopo un'interruzione di oltre 5 anni, le compagnie aeree israeliane riprenderanno da questa estate a volare verso la Turchia. I collegamenti da Tel Aviv erano stati interrotti per dissensi sulle misure di sicurezza richieste dalle autorità israeliane. Le compagnie aeree turche garantiscono 60 voli settimanali verso Israele e trasportano un milione di passeggeri all'anno.